Ehi tu che stai guardando questo video, non fare proprio il no skin della situazione perchè lo so che vai nel negozio oggetti a scioppazzare come un matto infatti da oggi se ti va puoi supportarmi come creatore cliccando in basso a destra supporto un creatore, hyper legit, tutto minuscolo, tutto minuscolo e uguale una volta inserito il mio codice, clicca su accetta ed il gioco è fatto grazie mille a tutti quelli che lo faranno, vi lascio al video, buona visione bello ragazzi e benvenuti in questo video di fortnite, sfide della settimana 2 stanno per arrivare, io lo sto registrando in anteprima, registrerò solo una sfida raga perchè è l'unica difficile da portarvi sul canale, cioè trova i confiabili di Deadpool allo yacht vi ricordate raga tipo quegli unicorni che dovevamo trovare al vecchio yacht con la strafigo di Deadpool, ora dobbiamo andare allo yacht tutto distrutto, tutto fatto a pezzi e quant'altro quindi raga, ora ho strattato la partita appunto in singolo, vi farò vedere esattamente dove troveremo appunto tutti e tre i gonfiabili di Deadpool tipo quegli unicorni da canotto facilissimi raga, ne dobbiamo trovare semplicemente tre vi ricordo che io sto appunto registrando in anteprima, quindi a me in questo momento in partita non usciranno ma voi quando farete la sfida appunto, vedrete il video sul canale che uscirà domani pomeriggio alle 4 quando usciranno le sfide troverete appunto i gonfiabili quindi andiamo a trovare tutti e tre i gonfiabili, let's go lo yacht è abbastanza vicino raga, sperando che non ci scendano troppe persone perchè sennò mi rovino nel video, mannaggia loro quindi non perdiamoci in chiacchiere, prima location esattamente sopra alla parte grande dello yacht raga dove c'è appunto la testolina gigante di Deadpool vi faccio vedere la parte esatta appunto per non farvi sbagliare quindi se vi trovate a scendere da queste parti ragazzi andate subito in questa parte grande che facciamo in modo tale da farvi un percorso e così seguite le mie ormi allora quindi primo confiabile raga mi si era bloccato il cervello per un attimo scusatemi allora primo confiabile qua esattamente dove sto io quindi qua ragazzi prendiamo il pompa che non si può mai sapere poi andiamo a trovare il secondo confiabile che sta qua sotto lo faccio vedere subito il secondo confiabile qui ragazzi dietro appunto a questo ombrellone quindi qui raga ecco qua e ora vi faccio vedere dove si trova il terzo confiabile corriamo corriamo scendiamo da qua scendiamo per di qua andiamo su sto ponticino e qui troviamo l'ultimo confiabile raga esattamente qui ed ecco l'ultima parte della mamma ok ragazzi spero che questo video vi è stato d'aiuto raga se così fosse lasciate un bel like iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanellina ciao a tutti ragazzotti belli ciao a tutti